Femminicidio di Fanano continua la piaga della violenza di genere Marche Nord, Figliuolo e Curcio promettono rinforzi Lotta agli sprechi, viaggio nel recupero delle eccedenze alimentari Dal Natale alla Befana continua la magia di Christmas Village Femminicidio di Fanano Ben ritrovati a Rossini News, il nostro notiziario serale Che in questa edizione di martedì 28 di dicembre Apriamo rimanendo sul barbaro delitto di Fanano di Gradara L'omicidio la notte di Natale, ne abbiamo parlato ieri Con i dettagli del femminicidio di Natalia Chiricoc La 61enne uccisa dal marito Vito Cangini di 80 anni Uccisa in casa dopo storie di gelosia e addirittura un rifiuto a fare sesso Una storia terribile che ieri vi abbiamo raccontato Che oggi cede il passo alla riflessione Alla punta dell'iceberg di un femminicidio Che chiude un biegno di storie di violenza di genere Un biegno molto complesso in questo periodo di pandemia Ne abbiamo parlato con l'avvocato Laura Martufi Presidente uscente dell'associazione percorso donna Ma tuttora responsabile della formazione Ci troviamo a in qualche modo dover prendere atto Del fatto che questi eventi accadono anche molto vicino a casa nostra Quando avvengono così vicino risuona in maniera molto forte La necessità di continuare a mettere in campo azioni efficaci di contrasto alla violenza Ci ricorda che non sono i femminicidi cose che succedono lontano da noi Che continuano ad accadere all'interno delle mura domestiche e familiari E quindi che questa violenza necessita ogni giorno dell'impegno di tutte e di tutti noi In particolare della rete territoriale Si tratta purtroppo di un fenomeno che viene da molto lontano Un fenomeno profondamente culturale Radicato un problema sociale Quindi non un'emergenza, non un raptus, non una follia E non una questione di gelosia La violenza maschile sulle donne ha delle radici molto più profonde Ed è per questo che percorso donna parla di necessità di una rivoluzione culturale Su questo tema Ed è per questo che ci occupiamo prevalentemente di formazione Nelle scuole, nei luoghi di lavoro Per partire da lontano Per cominciare dal principio Veramente a capire quali sono le radici di questi fenomeni Che accadono, continuano ad accadere ogni giorno E i cui numeri non ci rassicurano affatto Però questo non significa che fermeremo l'azione di sensibilizzazione e di formazione continua Proprio per non parlare di gesti così vicini alla follia Non è questo ciò che sta alla radice di un femminicidio Ecco, l'omicidio è la punta dell'iceberg Una violenza che si declina in tante situazioni Chiamiamole minori Però le chiedo che 2021 è stato Per quello che riguarda il nostro territorio Tutto quello che sta alla base di questo iceberg Tutto quello che sta sotto la base Sotto l'acqua Diciamo più invisibile Più sottile Più difficilmente riconoscibile E ciò di cui noi ci occupiamo tutti i giorni Il percorso Donna Opera all'interno del centro Parla con noi Che è il nostro centro antiviolenza provinciale In coprogettazione con la cooperativa L'adirinto e con l'ambito territoriale sociale 1 E i numeri del nostro centro antiviolenza Sono numeri purtroppo che ci raccontano un 2021 In cui gli accessi sono aumentati Soprattutto a seguito di quello che è stato il lockdown Gli ultimi due anni sono stati due anni che hanno colpito In maniera molto forte le donne Soprattutto quelle costrette a casa All'interno di mura domestiche Di certo non si cure Quindi le forme di violenza che Vengono raccolte Vengono ascoltate Vengono supportate All'interno del centro antiviolenza Sono le forme di violenza più varia Certamente la violenza fisica Ma non dobbiamo mai dimenticare Che di solito nella maggioranza dei casi Quando una donna è vittima di violenza fisica È molto spesso vittima anche di violenza psicologica Di violenza economica Di violenza sessuale Quello che percorso donna sempre intende rimarcare È che dalla violenza si può uscire Si devono continuare a sostenere le donne Che scelgono di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza Perché da qui in avanti Insieme non ci si debba trovare A commentare come purtroppo oggi stiamo facendo Un femminicidio Ma storie di donne Che riescono a uscire Da quella che è la spirale della violenza E dopo qualche giorno di tregua Per il ridotto numero di tamponi delle festività Torna alzarsi la cresta Della quarta ondata di Covid-19 Nelle Marche Oggi per la seconda volta in questa quarta ondata Si sono superati i mille contagi in un giorno 1.098 per essere precisi Di cui 135 nella provincia di Pesaro e Urbino Il tutto a fronte di più di 13.000 tamponi processati L'incidenza di contagio si attesta ora a 365 casi Ogni 100.000 abitanti Aumentano di altre 9 unità i ricoveri Che salgono a 254 Ma restano invariate le terapie intensive Con 42 pazienti in degenza Purtroppo si registrano altri 4 decessi Una donna e tre uomini di età compresa Fra 76 e 87 anni E resta caldo l'argomento della carenza di personale A Marche Nord Una problematica emersa fino alla ribalta nazionale Anche grazie all'impegno del sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci Che ha contattato a tal proposto Il capo della protezione civile nazionale Curcio Che ha promesso rinforzi per Pesaro Il polverone mediatico che ha coinvolto l'ospedale di Pesaro Nelle ultime settimane È diventata una notizia di interesse nazionale A diffondere, al di fuori dei confini regionali La problematica che tuttora riguarda L'azienda ospedaliera di Marche Nord Ci ha pensato il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci Che si è rivolto giorni fa alle autorità competenti Ho scritto sia a Figliuolo sia a Curcio Per chiedere il loro sostegno E sulla base delle capacità che hanno Quindi sui approfondimenti che figure autorevoli come loro Possono e debbono intraprendere Io ho scritto il 23 Ed è stato gentilissimo l'ingegner Curcio A rispondermi telefonicamente il 24 Chiamandomi la vigilia di Natale E facendo presente che ne avrebbe parlato Sia con Figliuolo sia con Salta Martini Purtroppo questa è forse una delle tante punte dell'iceberg Che purtroppo sulle quali dobbiamo fare fronte Non ritenevo più ammissibile Quanto stesse succedendo a Marche Nord E di un percorso che purtroppo a Marche Nord Ho denunciato già più volte Perché ci ritroviamo con 23 professionisti L'anno scorso, oggi sono solo 13 In un periodo pandemico che Si avrebbe visto coinvolti in una terza ondata Ed un personale che è sotto pressione In una maniera devastante E questa sottopressione, questa pressione Sul verso il personale Naturalmente grava sui pazienti E sui familiari dei pazienti Cosa che non possiamo come sindaci ovviare Sulla quale non ci possiamo più girare da altra parte Una situazione complicata Non solo per i cittadini del comune di Pesaro Ma anche per gli abitanti dei comuni limitrofi Come lo stesso Petrucci ha sottolineato Tutti i comuni sono coinvolti Tutta la sanità riguarda la provincia di Pesaro Urbino E non solo la città di Pesaro E dico solo Non tanto perché è la più numerosa O che riguarda solo il sindaco di Pesaro Ma tutti i sindaci sono responsabili Del loro territorio e della salute di loro territorio Quindi l'ospedale a Pesaro Come l'ospedale Urbino Come tutti gli ospedali che abbiamo sul territorio Hanno necessità del coinvolgimento di tutti i sindaci Gli sprechi alimentari sono una tematica davvero spiacevole E che rischia spesso di acuirsi Proprio in questo periodo di festività Oggi abbiamo voluto approfondire questo argomento Andando ad accendere le nostre telecamere Alla Onlus Gulliver di Pesaro Che è impegnata nel recupero delle eccedenze alimentari Vediamo quello che si sta facendo E ascoltiamo quello che si potrebbe fare Ci troviamo al centro del riuso di Via Toscana Un luogo dove gli oggetti trovano una nuova vita Ma non solo Un luogo anche dove c'è spazio Per evitare sprechi di eccedenze di cibo Sempre molto problematica questa tematica Soprattutto nel periodo natalizio Un periodo di maxi consumi alimentari E ci troviamo proprio nel magazzino Del reparto alimentare della Onlus Gulliver Qui vengono radunati tanti cibi da diverse direzioni Su tutte quella della fondazione Banco Alimentare Ma poi altre situazioni come quella della comunità europea Con il marchio FEAD Le fondazioni, i privati Tante situazioni per evitare sprechi E destinare questi cibi che andrebbero buttati A chi ne ha più bisogno Il Covid ha accentuato la difficoltà Quindi il bisogno delle famiglie Purtroppo abbiamo visto che le persone che donano O i commercianti che donano Sono sempre in diminuzione purtroppo E questo ci mette in difficoltà Sia noi che gli altri enti che distribuiscono in città Un sistema di recupero cibo davvero organizzato In cui nulla viene lasciato al caso Li vedete qui con me I raccoglitori Con i nomi dalla A alla Z Delle famiglie seguite dalla Gulliver Tutto qui viene registrato Cosa viene donato In quali quantità E in quali tempistiche Abbiamo due stanze Un magazzino Più che stanza di distribuzione E attualmente forniamo 180 famiglie Quasi 400 persone Di un pacco cibo settimanale Diciamo che a Pesaro le realtà che ci sono Fanno un ottimo lavoro In altre città Dove anche il comune Mette del sui esercenti Mette del loro Riescono a recuperare a fine giornata Tantissime cose Pensiamo solamente a un esempio Di grandi città Bologna, Milano E anche in Roma Dove il comune dà uno sgravio della taria Ai commercianti che partecipano Perché non farlo anche a Pesaro? Dovremmo sederci tutti quanti Intorno a un tavolo In primis il comune Gli altri enti E i commercianti Per trovare un modo Un percorso Per poter recuperare Tutto quello che la sera Gli esercizi buttano via Cose che sono Buone Sono buone anche per il giorno dopo Che sono utili In una Pesaro Il 2022 Nei quartieri I nostri residenziali I quartieri per bene Vedere le persone Che vanno nei bidoni Fugurano con le mani Tirano fuori il pane Le verdure È una cosa Non esiste Non si può vedere È una cosa che Non ci deve essere Un lavoro Quello del recupero del cibo Del riuso degli oggetti Reso possibile Solo grazie Al lavoro Di un esercito Davvero Di volontari Che si impegnano Quotidianamente In questa missione Tanti Circa 300 ragazzi Sono quelli Che sono riconducibili Ad esempio Ai progetti Di alternanza Scuola lavoro PCTO In pratica La scuola Permette Agli alunni Di partecipare Ad esempio A corsi Che possono essere A scuola O possono essere Come questo Che appunto Andiamo Nei magazzini O nelle scuole Negli asili Noi siamo qui Per dare una mano Ad organizzare A sistemare Comunque Il cibo O quello che arriva E siamo qui Anche per Prendere ore Che ci serviranno Per la scuola Per dare l'esame La Onlus Gulliver Fa tanto Ma si potrebbe Fare tanto di più Ad esempio Una problematica È quella Del recupero Del cibo fresco Ci sono anche Problematiche strutturali Li vedete qua Un paio Di frigoriferi Pochi altri Sono situati In un'altra zona Ma una cella Frigorifera Risolverebbe Ad esempio Tante problematiche Che al momento Non riescono a gestire Il recupero Del cibo fresco La colpa Non è di nessuno Nel comune Nei supermercati Nei volontari Nei altri enti La colpa Forse è anche nostra Perché è ora Di sedersi Di ripeto Intorno a un tavolo E creare un percorso Virtuoso Di recupero alimentare Il bilancio Di fine anno Della pandemia Sul lavoro Nelle marche Racconta Di 10.000 Lavoratori dipendenti In meno E di un netto calo Delle retribuzioni Medie E quanto emerge Dai dati elaborati Della CGL Marche E forniti Dall'Inps A pagare il prezzo Più alto Sono donne E giovani Impegnati Soprattutto In lavori Precari E part time Solo metà Del lavoratore È infatti Un lavoro standard A tempo pieno E indeterminato E un terzo Ha salari Inferiori A 10.000 Euro lordi Nelle marche Risultano occupati Quest'anno 423.000 Lavoratori Dipendenti Privati In netto calo Rispetto All'anno precedente Con oltre 10.000 Lavoratori In meno Pari A un Meno 2,4% Che è dato In linea Al trend Nazionale Cambiamo Il cuore Il cuore di Ilaria Elisabetta E Marco Ha portato Ancora una volta Il nome di Pesaro Alla Rivalta Nazionale Così Con queste motivazioni Il sindaco Matteo Ricci L'assessore Allo sport Mila Della Dora Hanno consegnato Il plauso Della città Ai campioni Di tecundo Olimpica Cattolica Riccione Proclamata Vice campionessa Europea Juniors Dopo L'ottima prestazione Ai campionati Di novembre Di Sarajevo Atmosfere Delle festività Che si respirano A ritmo Di gospel In provincia Di Pesaro Orbino A cominciare Da San Costanzo Dove domani 29 dicembre Alle ore 21 Al teatro Della Concordia Si esibirà Il complesso Gospel Times Coin Joyce Will Ken Bailey Giulia St. Louis Josie Santemè E Michele Bonivento Domenica 2 gennaio Invece alle 15 Al teatro Sperimentale Di Pesaro Altra esperienza Autentica E di grande gioia Con Emea Brown E The Gospel Spirit Un gruppo Composto da Cinque cantanti E tre musicisti Che rappresentano Una delle più importanti Formazioni musicali Nella scena Della musica Afroamericano Presente in Italia E ora Parliamo Di quella Che è stata Probabilmente La grande Novità Del Natale Pesarese Ovvero Il Christmas Village Il villaggio Di Natale Partito da fine novembre In piazzale Matteotti E che resterà Aperto Tutti i giorni Fino all'Epifania Il nostro Edoardo Orazzi Ci porta Alla scoperta Di quest'angolo Di magia natalizia L'atmosfera natalizia Di Pesaro Con Christmas Village Non si conclude Il 25 dicembre Ma continua Fino al 6 di gennaio Un villaggio Di Babbo Natale Sorto A pochi passi Da piazzale Matteotti Che presenta Tantissime attività Laboratori Interazioni Musical Ma anche tanto altro Questo è un parco Questo è un parco tematico Che abbiamo Voluto portare A Pesaro Per far rivivere La magia del Natale Direi che ci siamo Riusciti fino adesso Il bilancio è positivo Nonostante Il tempo non ci abbia Aiutato Ma insomma Pare che da oggi Sia in netto miglioramento Abbiamo Come dicevo Abbiamo voluto ricreare La magia del Natale Attraverso Delle esperienze Da vivere All'interno Delle nostre strutture Lo facciamo attraverso Appunto L'ambientazione Della casa di Babbo Natale Una vera Una vera casa Con delle scenografie Che riprendono Proprio il vero ambiente Di Babbo Natale Dopodiché si passa All'ufficio postale Ufficio postale Dove tutti i bambini Hanno potuto Scrivere la lettera A Babbo Natale Ed imbucarla Insieme agli Elfi In questa posta Che è alta nove metri Dico Hanno fatto Perché ora è arrivato Il momento della Befana Dunque La posta sarà caratterizzata In tutto quello Che riprende Il tema della Befana E le lettere Verranno scritte Alla Befana E si potrà entrare A far parte In quello che è Il club della Beffi Diciamo che è Un elemento molto forte All'interno Del nostro Parco tematico E proprio La Befana Insieme a Babbo Natale Da oggi Fino al 6 di gennaio Che sarà il giorno di chiusura I bambini potranno Scrivere Ed imbucare la letterina Per fare in modo Che appunto Non porti il carbone Ma porti Dei regali piacevoli I nostri contenuti Sicuramente Una parte centrale Ce l'ha Il laboratorio creativo Sono dei laboratori In cui i bambini Potranno Ritagliare Incollare E portare a casa Dei gadget C'è uno su tutti È il gancio Della Befana Il gancio Della Beffi È un gancio Che verrà attaccato Una volta colorato E ritagliato Verrà attaccato Alla maniglia Delle porte Delle camerette Dei bambini Un'altra parte fondamentale È quella riservata Al musical Che va in scena Quattro volte al giorno Con tutti gli attori Professionisti Che danzano Cantano dal vivo E che quindi Fanno Concretamente Vanno a chiudere L'esperienza Di chi viene a trovarci In villaggio Con la Caritas Abbiamo innanzitutto Regalato 300 biglietti L'abbiamo fatto Per le famiglie Più in difficoltà E poi abbiamo Attivato Questa Possibilità Di fare in modo Di regalare A chi ne ha più bisogno Un piccolo regalo Con una dinamica Molto semplice Quando vai a comprare Un dono Per un tuo caro Ricordati che Aggiungendo qualcosina Ne puoi comprare un altro Sempre nuovo Ovviamente Da portare in villaggio E noi lo facciamo A avere poi Nei giorni a seguire A tutti I visitatori Della Caritas Che sicuramente Apprezzeranno Con cuore Questa iniziativa E anche oggi Proseguiamo Il ciclo Di interviste Del nostro Giorgio Ricci Che ci porta Ad approfondire Diverse realtà Pesaresi Attente ai malati E alle categorie Fragili Ci siamo occupati Ad esempio Della fondazione Fattori Dell'associazione Noi come prima E oggi Approfondiamo L'impegno Di casa Moscati In favore Dei malati Di AIDS In casa In questa casa è sempre con i nostri clienti che si passano e i giornali che si appunturano. Si arriva in questa casa, ci arriva tutti i assi e la malattia. Si arriva anche nelle condizioni di rispondere e credo tutti i miei anni. E quindi può avere un coltivore che è un coltivore più importante. Oppure può avere verso te. Ovviamente questo è un coltivore più importante. Può avere un coltivore più importante. Perché una volta vediamo tutto dentro e una volta il coltivore più importante. Questo non l'ha importanza. E' un coltivore. Perché ti cercano uno scatto. Cos'è una casa di accoglienza. Perché molto spesso quando spiegiamo che cos'è la casa uno scatto, quello che è iniziato. La casa uno scatto è il dono delle più scure. Quando stiamo a noi, o per noi, in cui c'è il programma e sono gli occhi, quindi ci sono i padroni che ha piaciuto questa cosa. E molto spesso parlare di una casa di accoglienza, in termini, di qualche persona che lavorano, che cosa si fa, dipende in vera sicurezza di presidenza in questo mondo. I testicologici parlano di che cos'è il senso un concordo dell'agliettivo. Quello di lasciarsi aiutare, ma che si ha più di occhio, che ha più grande coraggio delle persone che vivono dentro e aver scelto di curarsi, aver scelto di dire aiutare. E incontro c'è anche, non fatto il coraggio, ma il dovere e il diritto politico. Il parlo, del ruolo di voi, di essere accoglietti, di lasciarli sui indietro. E noi attività, in ogni fuoco, da questo è possibile. E poi a casa non si andrì, a volte non si chiede che cosa succede. Cioè, nel quello che succede, da vita in tutte le case, ci si prende cura delle malattie, ci si prende cura dei momenti di mente, delle difficoltà, si chiedono di mangiungere. I nostri ospiti, come sempre una cosa, la vita è buona, e anche la vita è buona. E per questo, noi, in ogni modo che possiamo, ci prendiamo la vita, ce la prendiamo, da cui ha detto, semplicemente di tutto, e da dove, purtroppo, è una vita faticosa, ma ce la prendiamo anche con divertimento, l'affetto, e il coraggio di non riconrollare la vita. E anche vediamo che in casa non sta sopravvivere e sta avanti, grazie anche a quanti da me, all'intervento di razza, per il potere, davanti con le gestioni. E questo, che mette anche a quanti da, che vorrebbe dire, dell'accessione in casa, che ha scontato la cultura di un'intervento. Al contempo, che i CES, che ci vediamo di un quale, in un contesto, come qui, anche per questa situazione, e anche nostra, perché non è semplice il gestire anche tutti i soldi di una persona, di tutti. Ovvero, il progetto, il padre, la gestione della casa, di un'intervento. E questo, tutto spesso, poi, i CES, i suoi, i suoi, i suoi, i suoi, anche con la generosità di tante persone, che si rendono contatti per quanto ci sia. a tutti. E si conclude qui, questa nostra edizione della telegiornale Rossini News. Prima di salutarci, vi ricordo, la nostra prima serata, che alle 21.20, proietterà un'altra puntata della TV dei Viaggi, il nostro format dedicato alle bellezze del pianeta, che questa sera ci porta alle scoperte della Thailandia. E in tanti, ieri sera ci avete seguito con la finalissima di Masterfish, il nostro programma. Il pesce va in onda, che è giunto all'atto finale. Per chi si fosse perso la finale di ieri, non riveliamo nulla, perché c'è la possibilità di rivederla questa sera alle 21.45. Masterfish, la finale che si è svolta al ristorante Consapore dello Spazio Conade, in questo format realizzato da Rossini TV e prodotto da Confesercenti Peso Robino e condotto dai due che vedete in grafica, i nostri Paolo Pagnini e Roberta Esperide. L'informazione di Rossini TV torna puntuale anche domattina con la rassegna stampa Buongiorno Rossini, come sempre in diretta, come tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 7.20, a tenervi compagnia domattina ci sarà Antonio Astuti. E dall'informazione passiamo all'app, l'app di Rossini TV, che è uno strumento sempre utile per restare informati, per rivedere i programmi, per consultare la nostra programmazione o semplicemente per inviare segnalazioni alla redazione un'app che dunque vi invitiamo a scaricare. E vi invitiamo anche a continuare a seguirci con i programmi di Rossini TV perché si conclude qui questa nostra edizione delle Tg. Da parte mia e di tutta la redazione vi auguro un cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi. Grazie. 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 Grazie.